Forza canzone d'Italia del mondo, è così denominato il progetto che il popolare beniamino del pubblico Teddi Reno organizza per rilanciare la melodia italiana a livello mondiale. Il primo approccio avverrà attraverso il sito internet www.teddirenofestivals.it, poi ci saranno reselezioni con finali organizzate in tutti i continenti. Tra due anni la finalissima mondiale a Roma. Sì, paradossalmente andiamo all'estero per trovare delle grandi canzoni italiane da importare. Io per grandi canzoni, con tutto rispetto per le canzoni che vengono effettuate in questo momento, che i ragazzi ballano in discoteca eccetera, però sinceramente qual è la canzone italiana in questo momento che fra 30 anni, fra 50 anni si ricorderà ancora tipo volare o qual è? L'iniziativa parte dall'Abruzzo con la consulenza artistica dell'associazione culturale Silvia Pagni Music Center di Scerne di Pineto e può contare sul sostegno del Consiglio regionale come spiega il consigliere PDL Riccardo Chiavaroli. Come è noto la Regione Abruzzo da sempre sostiene progetti che servano a rafforzare i legami degli abruzzesi che vivono fuori dai nostri confini. La Regione Abruzzo ha dato un patrocinio gratuito, sostiene però ad ogni modo, in ogni livello questa iniziativa che parte proprio dall'Abruzzo e che nei prossimi due anni toccherà tutti i maggiori paesi del mondo. La manifestazione finale che è prevista intorno al Colosseo di Roma nel 2013, cioè alla fine del Biennio, darà vita anche a degli artisti che porteremo dall'estero, sempre italiani o di discendenza italiana. Quindi io spero di concludere la mia attività fra due anni a Roma nel modo migliore. Grazie. Grazie.